Ma che era io? A che era io detto a Cosmano? Eh? A Cosmano, a che era io detto? A chi? A Cosmano, quello che presenta. Ah, il presentatore. Tu fa quello che presenta. Il presentatore. A Cosmano, a che ore? Non mi ricordo, alle sette, sette e me. Ma come alle sette? Ora dobbiamo cominciare a dice alle sette. E vabbè, senti, colpa sua che non si presenta. Ma se che mi hai detto alle sette? Vabbè, ma che c'entra? Stava più attento. Ma che c'entra? Vabbè, e quindi che facciamo? Presentiamo noi? E presentiamo noi, che dobbiamo fare? Fra l'altro con lo mischino, magari gli facciamo pure un favore, nel senso che ha presentato due giorni consecutivamente, almeno arrivano. Dice tu, è stanco. Ma certo. Stiamo facendo una cortesia e gli stiamo rubando il lavoro. Lo vedi? In Italia qualcuno ruba il lavoro, in realtà è una cortesia. E vagliela a spiegare a certuni. Prego, amici. E attento, non dire ancora queste cose, perché se continui a dire queste cose ti votano. Io te lo dico e poi finisce male, perché ti devi aprire un partito, poi sei un compico che diventa politico. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio! Web Marketing Festival, WMF. Oggi è la giornata finale, purtroppo. Purtroppo. Purtroppo o per fortuna, perché abbiamo visto un sacco di cose bellissime. Come la mancanza di Cosmano, purtroppo o per fortuna. Chi lo sa, chi lo sa, sarete anche voi a giudicare. Per le sette arriverà. Purtroppo o per fortuna. E quindi abbiamo preso il suo posto. Esatto. Da ora in poi ci siamo noi. È un'egemonia, un'egemonia siciliana a tutti gli effetti. Purtroppo questa cosa che vengono dal sud e rubano i lavori al nord continua. Vedi, cioè siamo proprio la conferma. Sono quelli che lo dicono, facciamoglielo credere, continuiamo a farlo. Ah, facciamoglielo credere. Quindi è così che dobbiamo contrastare gli stereotipi. Quindi questo è il gobbo. Perché qua giustamente era tutto fatto per Cosmano, io non ne so niente. E da là vediamo. Perfetto. Cominciamo. Stai studiando il fotografo. Sì, il fotografo. Ah, è un video, Federico. Un videofrafro. Un videofrafro. Va bene. E qua c'è pure la band. Andiamo avanti, Fabrizio, sei tu quella, la scaletta, la cosa. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Visto che comunque, dico, ora, a parte gli scherzi, dico, Cosmano in questi giorni è stato vittima di, come dire, un po' di abusi. Nel senso che c'era Diletta, Leotta e tutti facevano i disegni a Diletta, gli davano i premi a Diletta, cos'è. E Cosmano, mischino, non è mai. Poi c'era poi il Roy Paci, c'era i Giacale e Cosmano, mischino, tutti gli ospiti. Per una volta. Qualcuno lo deve presentare. Lo presentiamo bene. Secondo te esce se lo presentiamo, lo chiamiamo, lo evochiamo, arriva secondo te. Dirige l'orchestra. C'entra a dirige l'orchestra, ma a Sanremo, a Rimini. A Rimini, vabbè vicino, a zona. Allora, signore e signori, vediamo che succede. Ci proviamo al Web Marketing Festival. Ospite speciale. Ospite speciale è Cosmano Lombardo. Forte, forte, raga. Che cosa ha fatto in questi giorni? Ah, è arrivato. Eccolo. Allora c'è. Yes, tu bordello. Cosmano, raga, è Cosmano, vado a dire io. È Cosmano. Yes, tu bordello. Cosmano Lombardo. Che è stai, che è? Carichi, no? Grandissimi. Oh, mentre non c'eri ti abbiamo... Abbiamo parlato di Day, Cosmano. Ho sentito. Le persone erano invisibili. Giusto, quelli... Non utilizzo i gobbi. Cioè, nonostante fossero... Cioè, sono piazzati alla mia alzetta. Esatto. No, ma ti giuro... No, ma mentre tu non c'eri, proprio gliel'abbiamo spiegato che tu sei essenziale. Poi, proprio hanno battuto le mani proprio loro, ci tenevano. Tu stai... No, ma poi tu sei... Che arriva, c'è un ragazzo e mi ha detto, gliele devo battere io le mani, proprio malade, ci tenevano. Erano tutti impazziti. Cosmano, lo so quando è incredibile. Dov'è? La gente si strappava i capelli. Altro che di Letta le 8. Tutti proprio... No. Una cosa incredibile. Guarda, incredibile. Ora sono calmi perché giustamente sono stanchi. Insomma, ho detto, ieri c'era di Letta le 8 e non sono venuto, sono venuto oggi per Cosmano. Cioè, è che ora sono stanchi, sono fermi per questo motivo. Complimenti, Cosmano. Veramente con noi siamo stati chiaramente protagonisti anche nelle scorse giornate. Abbiamo visto che ci sono stati veramente degli spunti molto importanti per... Grazie a questo... Complimenti, tutto organizzato benissimo, soprattutto i condizionatori. Sì. Vanno, funzionano. Porca miseria. Ma poi, ragazzi, la pioggia a luglio. Cioè, chi è che la porta a Rimini? Solo noi. Guarda, veramente. La pioggia a luglio è un fenomeno. Un fenomeno, fatta bene. Un po' come te. Tu sei la pioggia a luglio. Allora, grazie. Questa. Comunque, lasciatemi ringraziare i Sansoni perché siete stati con noi in queste tre giorni super disponibili. Ma no, ma grazie. Davvero di cuore. Ma grazie. Un applauso ai Sansoni. Grazie. E volevo ringraziare anche l'orchestra, John Lennon, che ha suonato. In questo momento dovevano suonare fuori causa pioggia, ma abbiamo risolto. No, appena hai detto l'orchestra e il fatto che se qua non c'è nessuno disse, è troppo bella questa tecnologia. Cioè, siamo tutti avanti. C'è l'orchestra e non c'è. C'è un periodo in cui si deve suonare anche da casa, magari. Se uno è... Smart to work, è essere smart to work. Senti, Cosmano, prima di cominciare la nostra intervista, perché adesso ci dobbiamo spostare. Io proprio... Puoi presentare davvero? Io sono tranquillissimo. No, ma sai cos'è? Volevo dire una cosa seria, incredibile. Due comici che noi delle volte... Ogni tanto. Siamo delle cose seri. Lo dobbiamo fare. È stato bellissimo oggi essere, come dire, protagonisti su, nella sala, qui, dei ragazzi veramente giovanissimi, grazie a delle idee. Ci spiegavano come da quando si è giovani, dall'inizio bisogna contrastare dei problemi molto importanti che avvolgono la nostra terra, che poi è casa nostra. Allora, queste idee ci hanno spinto a pensare, perché oggi noi dobbiamo dedicare un applauso, che è l'unica cosa che possiamo fare, a tutte le vittime, a tutto quello che sta succedendo in Germania e in Belgio oggi, che probabilmente, senza probabilmente, anzi, è colpa di un cambiamento climatico che ormai è incontrollato. Quindi siccome questo è un festival che ci deve far riflettere per evitare quello che succederà dopo, noi facciamo questo applauso, appunto, a tutte le vittime di questa bruttissima tragedia. Assolutamente. Siamo vicini. Ragazzi, andiamo al nostro momento intervista. Su! Andiamo al momento. Mi aspettavo anche qui la sedia più bassa per me. Incredibile. No, no. Mi aspettavo le sedie, ma che accoglienza. Tu metti di qua che sei quello che sta a parlare di più. Un'accoglienza straordinaria, grazie. Allora. Che bello. Le sedie. Ah, scusa, dirlo. No. Vai un po' più. Sì, sei in mezzo. Non ti vedo. Porca miseria. Sempre il gioco quello delle tre. Ora ci cambiamo. Dove è Cosmano? No, allora. Io teniamo particolarmente a avere questo momento con i Sansoni. Ci conosciamo da tempo. Ormai siete parte integrante della famiglia del WMF. C'è anche un forte rapporto d'amicizia. Quindi ci tenevo a far conoscere e a capire anche qualcosina in più. Della vostra storia. Quindi volevo chiedervi quando siete nati artisticamente e anche come questa situazione pandemica ha cambiato la vostra carriera. Beh, allora artisticamente noi siamo nati il primo maggio del 2015. Per la festa dei lavoratori. Perché volevamo spiegare ai nostri genitori che questo può essere un lavoro, cioè l'intrattenimento 2.0. E ancora glielo stiamo spiegando. E sono sei anni che gli spieghiamo che noi insomma abbiamo... Ho organizzato qualche workshop per spiegare ai genitori che faccio un lavoro, mi chiami, gli faccio un biglietto e vengono. Guarda, questo stesso festival è stato organizzato per far capire a tutti i genitori del nostro team quello che facciamo. Vengono qua e lo capisco. Quindi prossimo festival anche i vostri genitori. Assolutamente, perché poi il problema è che non è che è colpa loro, ora non si può dare la colpa a delle generazioni che si vedono anche abbastanza, come dire, travolte da queste ondate di tecnologia e innovazione che però obiettivamente hanno creato nuove possibilità di lavoro, nuove figure lavorative. Noi non riusciamo a essere arrabbiati con loro o capiamo che non riescono a capirlo perché loro sono figli di una società diversa rispetto alla nostra. Avevano delle armi diverse, dei mezzi diversi. Certo, dei mezzi. E quindi noi quello che pensiamo e diciamo sempre è che ognuno di noi è il boomer di qualcun altro. I nostri genitori per me sono dei boomer, ma io probabilmente per un ragazzino di 12 anni che già nasce nativo digitale sono un boomer. Quindi ragazzi siamo tutti i prossimi boomer. Siamo boomer di qualcuno, che poi in realtà la definizione, che è una definizione moderna, è che siamo anche in una fase in cui stiamo spiegando queste nuove definizioni. Ci sono dei termini nuovi che nascono? Io non so come mettermi, però mi stai spiegando un sole. No, vabbè. Almeno dentro te lo puoi prendere. Te lo prendi dentro. Ti puoi prendere le luci perché è fuori io. No, stavo dicendo semplicemente che grazie chiaramente alla tecnologia, che c'è sempre stata, però è chiaro che adesso siamo in una curva un po' diversa perché appunto ci stiamo evolvendo più velocemente. Ecco, questa velocità ci colpisce un po'. Noi abbiamo sempre pensato che le piante sono una soluzione bellissima al problema della velocità di questo tempo. Perché le piante per essere coltivate, per crescere, per nascere magari, hanno bisogno di tempo e di pazienza. Che è una cosa che noi non abbiamo più. E' di acqua. E' di acqua. E in Sicilia per un periodo non l'abbiamo avuto. Esatto. Quindi sono cose che uno non ha e che a un certo punto però si mette lì e le capisce. Perché poi quando c'è bisogno di tempo per far crescere, appunto, nascere ed evolvere le cose, si sta lì a pensare, a riflettere su quello che è il processo, no? Oggi abituati che se ci serve qualcosa usciamo il telefono subito. E lo diciamo noi che siamo due creator digitali nati ufficialmente nel 2015 ma che poi abbiamo cominciato a fare video nel 2015. Però infatti come si coniuga questa vostra visione col fatto che bisogna essere sempre lì pronti a tirar fuori dei video? Si coniuga che, appunto, come dicevi prima, grazie al periodo, cioè grazie per sfortuna, chiaramente, però ne abbiamo fatto di necessità virtù all'interno del periodo della pandemia, grazie ai metodi di comunicazione, appunto, che siano il cellulare oppure comunque la televisione, perché ormai le smart tv sono dei veri e propri cellulari giganti, se non li vuole utilizzare in quel modo, abbiamo lanciato ancora più contenuti sui nostri canali, li abbiamo triplicati, chiaramente come hanno fatto tutti, infatti si è triplicata anche il traffico della rete, ieri si dicevano cose importantissime anche sui mercati, sull'economia, si è spostata sugli acquisti online, quindi è chiaro che questa pandemia ha spostato e sta spostando degli equilibri molto importanti. Internet ci ha salvati, voi immaginate il periodo in quarantena a casa senza internet? Sarebbe stato folle, verissimo. Senza Netflix, senza le videochiamate, magari senza i telefonini e quindi, boh, cioè... E io e lui dovevamo parlare se non c'era internet. Ma ti rendi conto? Parlare, brutto, ma chi ci vuole parlare con lui? Una curiosità che avevo però del vostro percorso, sono diventate anche molto famose, no, le lettere? Eh sì, sì, sì. Come vi è nata questa idea? In realtà è nata da un flusso di coscienza spontaneo, perché quel giornalista di Libero, che si è appropriato di una parola che è bellissima, cioè libero, libertà, libera... Andiamo avanti. Vittorio Feltri ha detto l'ennesima boiata sul rapporto fra nord e sud alimentando un... Per l'ennesima volta. Contrasto che ormai oggi è campanilistico, basta! Vero. Ma perché parlare ancora di questa cosa? Cioè, ma forse giocarci, scherzarci su va bene, però neanche troppo, cioè... Ma attaccare in questo modo immotivatamente non aveva senso e quindi abbiamo detto scriviamoli l'email. E quindi caro Vittorio Feltri abbiamo scritto queste mail e gli abbiamo chiesto semplicemente... Cioè, perché lui doveva dire... Perché chi era del nord era superiore e chi era del sud era inferiore? E poi quelli che abitano in centro, anche... Perché, dico, che cosa sono? Non li prende per il culo nessuno, poverino. Non è che è bello. Cioè, almeno la battuta, no? Ha preso in giro per... Cioè, quelli di Roma, quelli del Lazio, al... Ma almeno prendiamoli un po' per il culo, si sentono messi da pace. No, ma non c'è, ragazzi, veramente, manca... Cioè, al sud è Terroni, al nord è Polantoni, al centro, chiamiamoli Terroncini, Torroncini. Esatto, Torroncini, troviamo una denominazione. Perché poi uno diventa veramente, cioè, e resta scioccato da... E quindi poi questa email si è sfuggita un po' di mano, perché abbiamo detto, guarda, l'email comunque si può mandare, è una cosa facile. E quindi un po' qua, un po' là. Siete partiti con queste lettere. Ci sono un paio di email nelle case postale. Ci mancano ancora, dobbiamo scrivere ancora un paio di email. Infatti ce lo dicevamo l'altro giorno. Ma ci potete dire la prossima... Guarda, io non vedo l'ora di scrivere l'email a quel signore di colore verde che fa paura a grandi e bambini. Al Grinch. No, che Grinch. Matteo Grinch. Matteo Grinch. Che è... È l'incredibile ulto. Non vedo l'ora. È che ne dice così tante che non sappiamo cosa scrivere. Ci vorrebbero 800 email. Non è che puoi stare lì sempre a capito. La sella di posta è intassata. È un casino, se no. Se noi gli distruggiamo la posta. Ma esattamente su questa linea. Non voi trattate tanti temi sociali? Sì. Che possono avere... Chi la può vedere in un modo, chi la può vedere in un altro. Giustissimo. Giustissimo. Non avete paura di allontanare una fetta di pubblico? Beh, guarda Cosmano, noi abbiamo preso una decisione. Abbiamo fatto una scelta. Che è un po' quello che oggi ognuno ha forse un po' paura. Siccome è un momento in cui se tu dici una cosa su Twitter ti ammazzano, ti distruggono. Io vedo delle persone che hanno addirittura paura a dire che tifano per una squadra. Perché dicono no. Se io dico che tifo per una squadra, mi attiro le minacce di morte degli altri. Allora, se noi diciamo di essere liberi e diciamo di essere in un paese democratico, non dobbiamo neanche avere paura di prendere una posizione. Ma ragazzi, viviamo in un paese in cui un giornale che si chiama Libero lo gestisce Feltri. Ma che minchia di libertà vuoi in Italia, Fabri? Beh, che c'è... Obiettivamente non ha torto. Comunque, su questo aspetto abbiamo la medesima visione. Ricordo nel 2019, quando c'eravate anche voi, nella sessione di apertura c'era stato Roberto Saviano e anche Mimmo Lucano. Siamo stati inondati da commenti perché avete dovuto prendere questo tipo di linea e io sinceramente non riuscivo a capire che terminato il festival, poi abbiamo fatto un post, abbiamo preso posizione rispetto agli esseri umani. Che non ce ne sarebbe neanche bisogno. Hai detto una frase giustissima, prendere posizione rispetto agli esseri umani. Non rispetto a una parte piuttosto che a un'altra. Che è quello che abbiamo chiesto, per esempio, a Vittorio, al nostro caro Vittorio, quando diceva che quelli del sud sono esseri inferiori. Abbiamo soltanto detto che anziché preoccuparsi di essere superiore o essere inferiore bisognerebbe soltanto preoccuparsi di una cosa semplicissima, essere umani. Vero. Ti giuro, no ma veramente, ragazzi, è incredibile, incredibile che nel 2021 due cretini dalla Sicilia che hanno voglia di studiare per diventare attori e registi e che scelgono internet per destinare il loro flusso di coscienza e creare dell'intrattenimento debbano preoccuparsi di ricordare a un giornalista che bisogna essere umani. È imbarazzante questa cosa. Vero, vero. Purtroppo è vero. Imbarazzante. E siccome viviamo in un mondo, purtroppo, tutt'oggi e in un'Italia, in cui la paura regna sovrana, perché dove c'è paura probabilmente c'è anche un po' di analfabetismo. E io sentivo parlare di analfabetismo digitale delle aziende, no? Posti in cui ancora non è arrivata quella digitalizzazione che dimezzerebbe i tempi tecnici di anni e anni e anni. Ecco, queste, questi sono i veri investimenti che si dovrebbero fare. Oggi riflettevamo a pranzo sul fatto che Bill Gates diceva sì, sì, investite sulle armi, poi arriva un virus e blocca tutto il mondo. E torto non ne aveva. E allora è facile dire, ah, Bill Gates aveva ragione. Però se uno scrive Bill Gates aveva ragione e il primo commento che riceve è Bill Gates è tutto un complotto. Perché Bill Gates è il capo di questo virus. Ora col vaccino ci mettono il 5G. Ma se noi dobbiamo combattere ancora con i no-vax? Sì, ci sono tanti aspetti che purtroppo continuano a diffondersi, ma questo al di là di internet, no? E il fatto di prendere posizione, torno a quel discorso, perché poi è quello che fate costantemente voi. Prendete posizioni su temi cercando di comunicare qualcosa e svegliare le coscienze. Prima parlavi di flusso di coscienza. No, il vostro flusso di coscienza fa svegliare il flusso di coscienza degli altri. Sì. Ne parlavo anche prima. Credo che su alcuni temi il fatto di educare, a prendere posizione sin da piccoli, possa far fare quello scatto. Io ricordo, visto che anche su questo tema siete molto attivi, no? Che è la lotta alla mafia, scusate se ritorno su questo tema. Nel nostro paese, anni fa, è stato ucciso un ragazzo, che io conoscevo anche benissimo. E' stato ucciso da mafiosi. Da allora non è stato più fatto il nome di quella persona. E questo non mi aiuta. Ora lo faccio io, visto che abbiamo tante persone. Si chiama Alfredo Pileggi, si chiamava. E' stato ucciso. E nel nostro paese, nessuno. Quando tu hai una conversazione, magari viene fuori, potresti citarlo, non lo citi. Certo. Questo non fa svegliare le coscienze. Quindi ha voglia che parliamo PNRR, comunicazione. Certo. Quindi il lavoro anche che fate voi nel prendere posizione in modo così forte, penso che può essere molto molto utile. E alla base. E alla base. E alla base. Volevo chiedervi però, secondo voi, come cambierà l'intrattenimento? Perché effettivamente la velocità, anche il Covid, ma al di là di questo, abbiamo visto, c'è stato anche TikTok il primo giorno. Come cambierà secondo voi l'intrattenimento e come pensate di adeguarvi a questo? Non lo sappiamo. Ciao. No, ne parliamo spesso di questo perché molto spesso facciamo riunioni anche con la nostra agenzia per capire come stare al passo e gestire da nuovo. Poi noi siamo, cioè, veramente a conduzione familiare, nel senso che noi ricopriamo tutti i ruoli all'interno della nostra azienda. E viviamo ancora a caso. Cioè noi siamo in smart working ancora prima che esistere. Noi siamo veramente, ci siamo tutto, siamo registi di noi stessi, sceneggiatori, autori. Chiaramente spesso ci appoggiamo a delle persone con cui collaboriamo, ma il nucleo proviene sempre da noi. Quindi è chiaro che poi le decisioni, le direttive, le idee... Quello che stavo dicendo è che noi ci siamo resi conto facendo questo lavoro, cominciando, è che una volta che cominci a lavorare sul web, durante l'avvento del web, stai facendo un lavoro in cui non esiste un manuale delle istruzioni. Esatto. Vero. Non abbiamo un punto di riferimento e dici lui ha fatto quella carriera lì, ha fatto quel cammino lì e allora faccio questo, poi faccio questo, poi faccio quello. Già non c'è un manuale delle istruzioni su come diventare i Sansoni, quindi che è una cosa... Potreste farlo? No, meglio di no, meglio di no. Meglio un Depliant dell'IKEA per montare qualche mobile. Ma quindi figurati poi all'interno di una piattaforma che è continuamente in evoluzione e di sicuro c'è una cosa fondamentale, che è quella che spesso quando noi riusciamo a intercettare, poi tutto si fa da solo, tutto si crea da solo, il video si monta da solo, si scrive da solo, che è la semplicità. Il linguaggio, la comunicazione, tutto quello che in questi tre giorni di cui si discute appunto dovrebbe essere basato sulla semplicità, perché è la prima regola della comunicazione. Almeno dipende poi il pubblico che vuoi colpire. Nel caso nostro siamo chiaramente degli attori comici popolari, abbiamo il nostro obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere sempre il maggior numero di persone, però se ci rifletti, faccio un esempio che secondo me è un esempio bellissimo, c'è quello di Kaby Lame, che grazie a TikTok e Instagram, insomma, con la sua semplicità, con la sua comicità di movimento, ha conquistato tutto il mondo. Un italiano che conquista tutto il mondo. Dobbiamo vedere ancora. In che senso dobbiamo vedere ancora? Andiamo avanti. Siccome è di colore, allora non è italiano? Andiamo avanti. E quelli di colore verde sono italiani? Andiamo avanti. Perché mi pare che con i colori noi siamo esagerati un po'. Andiamo avanti perché se continuiamo a fare questi discorsi andiamo indietro. Quindi andiamo avanti. È giusto, ha ragione. No, ma mi leggo a quello che dicevi prima, Cosmano. Sul discorso della semplicità e della velocità anche di comunicazione, dovrebbe veramente basarsi tutta la struttura comunicativa. Oggi abbiamo visto quegli esempi lì di idee di comunicazione. E' successa una cosa bellissima e bruttissima. Noi abbiamo bellissima dal punto di vista tecnico, bruttissima dal punto di vista proprio umano. Ieri abbiamo pubblicato una foto con i Jackal, con i ragazzi, con Gianluca, Aurora e Alfredo. E abbiamo scritto, che siccome pioveva, abbiamo scritto Siamo a Rimini. Volevamo andare a mare, ma piove. Almeno siamo tutti insieme. Aspetta. Fermo, sono. C'è qualcosa di strano? Di strano? Secondo voi? Potevo io ieri pensare mai che mi attiravo i commenti delle persone che ce l'hanno a morte col mare di Rimini e ci cominciano a dire ma perché andate a mare a Rimini? Siete di Palermo, siete siciliani, andate a mare a Rimini. Ragazzi, ma la cattiveria nei commenti? Ma chi c'è? Cioè, chi si fosse in Rimini, ma ancora l'hanno visto in televisione. Cioè, ma poi una cattiveria contro Rimini in generale. Ma poi, andate là, che cosa mangiate? Siete siciliani, siete abituati a mangiare bene, avete il mare. Cioè, io siciliano non devo partire. No. Allora io ho... Dai, Sare. Ma poi... Ma poi... Scusa, cioè, veramente... Ma poi te la posso dire una cosa? C'è un rancino, dallo. Ma avete risposto, siamo andati... Abbiamo risposto, abbiamo detto... Eh, ragazzi, volevamo vedere com'era il mare, non vi incazzate. Cioè, che gli dovevamo dire? Cioè, ma veramente... Ti mangiate le piadine. Ti mangiate le... Ma i piadine non ce ne devono essere nel mondo. Ma poi un'altra cosa assurda, veramente, questa cosa, e fra l'altro adesso sto facendo un piccolo spoiler, perché stiamo proprio scrivendo un pezzo per il nuovo spettacolo. Non sulla piadina, ma magari ho scritto sulla piadina. E per il nuovo spettacolo, che è questo qua. Cioè, noi siamo siciliani, cuciniamo, facciamo schifo. Soprattutto lui. Quello che cuciniamo fa cagare. Mangiamo... No, se cuciniamo noi due che siamo siciliani, mangiamo male. Quindi lo stereotipo sul fatto che i siciliani mangiano sempre bene, perché la... È una stronzata. Quindi, è inutile che arrivi il commento che ho scritto. Eh, ma siete siciliani, mangiate a Rimini, che schifo. Ma perché in Sicilia non possiamo male? Non può succedere che mangiamo male? Perché, secondo voi in Sicilia c'è sempre il sole? No, oggi piove, è una giornata di merda. Per esempio, succede, succede. Ah, lo scusa, eh. Vi siete sfogati. Porca miseria. Avevo visto la foto o non avevo visto i commenti? No, ti invito ad andare su Facebook. Guarderò. Andare su Facebook, che è un po' comunque il social in cui ci sono più, diciamo, tutti allenatori, tutti teologi, tutti... Perché il problema è sempre quello. C'è un problema sulla democrazia, sul senso di libertà. Perché... Andiamo avanti. No, ci capita di leggere dei commenti che scrivono Siccome io posso esprimere il mio pensiero... Andiamo avanti. E sono libero di esprimere il mio pensiero, io non la penso come voi. Perché secondo me l'amore non è amore per tutti, secondo me è solo maschio e femmina. Andiamo avanti. E noi rispondiamo. A te famiglia. Che a te famiglia? No. Il problema della libertà è questo. Che ognuno se ne appropria. Ma in realtà la libertà non è di nessuno. Perché... Ragazzi, direi che... Perché qua non basta dire io sono libero di dire quello che voglio per dire quello che voglio. Perché se io non ho studiato... Per esempio si parla adesso... È vero che nessuno sa bene quello che succede, insomma. Però se io non ho studiato e c'è un virologo, uno scienziato che mi dice una cosa... Minchia, cerco di fidarmi della scienza piuttosto che della mia ricerca su Wikipedia, capite? Cioè, ma è veramente difficile? Sì, è veramente difficile. Eh, c'è tanto da fare su questo. Moltissimo, moltissimo. Io direi di andare avanti. Io direi di andare avanti. Ma l'ha detto andiamo avanti perché io non l'ho sentito. Comunque. A proposito di andare avanti, dobbiamo andare avanti. Esatto. Con lo show, quindi io vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi. L'amore è amore. E ci rivediamo il prossimo anno. 16, 17, 18 giugno qui a Rimini. Saremo in fiera con i Sansoni. Grazie di cuore ragazzi. Grazie, un bel marketing festival. Grazie Cosmano. Grazie a tutti. Grazie, grazie a voi. Ciao. Grazie. Grazie.